Musica Esercitavano abusivamente professioni sanitarie, dal medico al farmacista fino al dietista, organizzazione criminale equista scoperta dai carabinieri di Taranto. L'organizzazione importava e commercializzava illecitamente specialità medicinali e sostanze a fetto dopante che si procurava con l'importazione clandestina o attraverso furti nei depositi farmaceutici. 10 le misure cautelari personali e 65 le perquisizioni locali e domiciliari nei confronti di atleti professionisti, semiprofessionisti e dilettanti del mondo del bodybuilding.